La frase shock della madre di Silvia Provvedi sulla presunta gravidanza della figlia Al Grande Fratello Vip nella puntata in diretta del lunedì ci sono stati scontri accesi su un argomento molto caldo, Fabrizio Corona. Anche la mamma di Silvia Provvedi si è lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata Alfonso Signorini chiede della presunta gravidanza di Silvia Provvedi Il Grande Fratello Vip ha mostrato un video a Silvia Provvedi in cui le venivano mostrate le dichiarazioni della madre a mattino 5. La ragazza ha voluto confermare ogni cosa, salvo poi ritirarsi dal continuare a parlare di Fabrizio Corona Ma il dibattito è continuato in studio. Infatti, Alfonso Signorini ha interrogato la madre sulla presunta gravidanza della figlia. Si vocifera sul web che Silvia abbia un ritardo e tema di essere incinta. Che cosa ne pensa lei? Allora la madre delle Donatella ha risposto. Io penso sia lo stress, in ogni caso sarei felice di diventare nonna. Grande Fratello Vip, la mamma di Silvia, un baby Fabrizio Corona? Non ne ha bisogno nessuno e. Tuttavia, Alfonso Signorini ha voluto indagare più a fondo e ha continuato. Ma se fosse di Fabrizio Corona? E a quel punto la signora ha esclamato. No, la matematica non è un'opinione e poi, sinceramente, senza offesa ma di un piccolo Fabrizio Corona non ne ha bisogno proprio nessuno. Una frase molto forte che per un attimo ha gelato i presenti. La signora ha precisato di non voler offendere, probabilmente pensando al figlio di Fabrizio Corona, Carlos Maria, ma di fatto la frase pronunciata è molto forte. Sarà sfuggita al diretto interessato? Nessuna replica, infatti, e questo è strano visto il suo temperamento. In ogni caso, l'argomento Fabrizio Corona è ancora presente all'interno del Grande Fratello Vip e ci sarà ancora occasione di parlarne nelle prossime puntate. Grazie a tutti i nostri spettatori.